Buongiorno, eccoci come al solito nella nostra edicola. Andiamo subito sui giornali, partendo dal Roma, la prima, manifesti sotto esame, la Corte dei Conti, se arriveranno esposti li valuteremo, De Luca sprezzante, il centro-destra ricorra pure all'ONU. E poi la cronaca, riciclaggio high-tech, scacco alla holding, ripuliti 2,6 miliardi di euro illeciti, 6 arresti e sequestro da record. Sardegna mea culpa del centro-destra, i leader dopo il voto commessi errori. Frullone, sgomberi rinviati di due mesi dopo il vertice in prefettura, il delitto Maimone, agli chalet di Mergellina, giustizia per Pio, via al processo per il killer. A Mugnano muore bambino di 4 anni, proclamato il lutto cittadino e ancora blitz nel bunker del clan, liberate le case occupate, al rione amicizia indagate le donne dei bosti. E poi il Napoli, a Sassuolo per salvare la faccia, Calzona punta di nuovo su Osimen, oggi alle 18, diretta su Dazon, gli azzurri provano a dimenticare Cagliari, scrive Mimmo Carratelli, un recupero propizio per rilanciarsi in trasferta. Andiamo all'interno, Camorra, riciclaggio da 2,6 miliardi, scacco ai geni dell'Hitec, 6 arresti e 16 indagati, ripulivano il denaro frutto di truffe e bancarotte. Azzerata la holding con base nel Vesuviano e ramificazioni in Lituania. Gratteri intanto si scaglia contro il DDL Giustizia, il procuratore capo contro le norme Bavaglio, i cittadini siano informati sulle nostre operazioni. E poi fari sulle operazioni dell'ex patron di Alma, coinvolto pure il manager Scavone, avrebbe movimentato 12.500 euro. Scorrendo ancora la Corte dei Conti, fari puntati sui manifesti della regione antigoverno, il procuratore della Campania alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Abbiamo letto, seguiamo con interesse, Giuseppone, ho letto che la minoranza starebbe preparando un esposto, se dovesse arrivare lo valuteremo così il procuratore Giuseppone. La proroga dello scudo erariale ci preoccupa, la paura della firma non esiste, il PNRR rischia di essere gestito senza controllo. E poi, a proposito dei manifesti antiregione, De Luca, ironico, il centrodestra ricorrono anche alle Nazioni Unite. I gruppi dell'opposizione in Consiglio regionale, rifiutato il confronto in aula sulla legittimità dell'uso delle risorse, è stato offeso il decoro istituzionale. Il governatore insiste, 6 miliardi e mezzo bloccati, ho detto a Meloni che Fitto non capisce nulla. Ancora scorrendo andiamo a Benevento, rifiuti da problema a risorsa, Confindustria a confronto con la regione Campania sulla gestione delle cave. Dibattito tra il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l'assessore Marchiello e il presidente Vigorito. Poi andiamo a Sala Consilina, finti poliziotti rubano gioielli per 70 mila euro. Prato La Serra, l'incidente alla Stellantis, dopo la tragedia un piano per la sicurezza, sindacati e azienda faccia a faccia per capire cosa non ha funzionato nell'organizzazione. Da Sarno, mal di testa, muore quattordicenne, è stata aperta un'inchiesta con i genitori di Michele Annunziata che chiedono la verità. Salerno, operazione contro una maxievasione e poi ancora da Salerno, dire danza, animerà il teatro delle arti. Venerdì prossimo l'evento di Pina Testa che taglia il traguardo dei vent'anni di attività. Scorrendo ancora dal Roma, torniamo su Benevento, concorsi con il trucco, nessuno sapeva, davanti ai giudici del Tribunale Sanite, il rito abbreviato per quattro imputati. In aula sfilano tre testimoni per il reclutamento di 250 nuovi vigili del fuoco. In aula, dirigenti interni e funzionari pubblici. Ancora Salerno truffato per 70 mila euro e pistole. Ad Avellino truffa del bonus coinvolto un irpino nell'ambito di un'inchiesta della finanza su quattro milioni di bottino. E poi tante altre notizie brevi da Benevento, Salerno e ancora dall'Irpinia, da Montemiletto, allarme furti, sei pattuglie, cintura nel territorio. Un sistema di prevenzione studiato ad hoc dopo le richieste dei cittadini esasperati. Scorrendo ancora dal Roma, torniamo a Napoli. Il restyling della Galleria Umberto, tutto pronto per i lavori dopo una riunione in prefettura. A breve il via al restauro della pavimentazione e partirà anche la vigilanza. Via Morgan, intanto dopo lavoraggine aiuti alle famiglie, la richiesta del PD dopo lavoraggine al Vomero. E poi discussione in consiglio sul futuro del centro Cannes. Non lasceremo il Cannes ai privati. La novità invece sul policlinico. In arrivo l'intesa tra Regione Campania e la Federico II sul nuovo modello aziendale del policlinico. Scorrendo ancora dal Roma, l'innocente ucciso agli scena di Mergellina, tutti in aula. Il grido dei parenti, giustizia per nostro figlio. Intanto la sorella dell'assassino sui social inneggia la mafia. Parliamo dell'omicidio Maimone. Parte il processo per il killer Francesco Pio Valda e i suoi fiancheggiatori. Addio all'avvocato penalista Sergio Mottola. Si è spento l'avvocato del sorriso. Oggi funerale al centro direzionale. E poi dosi di eroina. Scatte il blitz a Scampia. Notte di controlli all'ombra delle vele. In manette il pusher 44enne Cristoforo Lombardi. Chiudiamo con lo sport in Roma. Perché stasera alle 18 gioca il Napoli. Diretta su Dazon. Gli azzurri giocano il recupero della ventunesima giornata. Reggio Emilia contro il Sassuolo. Rientra Di Lorenzo a destra. Dubbio, ballottaggio. Zielinski tra ore. Il Napoli ci prova con il Sassuolo. Calzona punta di nuovo su Osimen. Nathan e Ostigard si giocano un posto al fianco di Rachmani. A sinistra dovrebbe esserci Mario Rui dal primo minuto. Intanto si è fermato anche Cajuste. Rimane a casa con Gonghe. Il centrocampista ha fatto solo terapie per un problema muscolare. Andiamo a vedere allora le probabili formazioni. Sassuolo con il 4-2-3-1. Tra l'altro esordisce sulla panchina Bigica che ha preso il posto di Alessio Dionisi. Consigli. Pedersen, Gumbulla, Erlich, Doig. Poi Lipani ed Enrique. Il tridente di trequartisti. Bairami, Torsved, Lorientè. L'unica punta è Pinamonti. Il Napoli invece dovrebbe rispondere con questo 4-3-3. Gollini tra i pali e non Meret. Di Lorenzo, Rachmani, Nathan, Mario Rui. Anghi, Salobot, Kazielischi. Davanti Politano, Osimen e Kvaraschelia. Quindi un turnover contenuto da parte di Calzona. La sfida è tra Bigica e Calzona. Esatto. La voglia matta dei due debuttanti. Al MAPEI si sfidano due allenatori che si giocano grosse chance per potersi imporre da primi dopo tanta gavetta come secondi. Il tecnico Baresi ha finalmente l'occasione per dimostrare il suo valore dopo anni di gavetta. Nel suo corsivo, Salvatore Cagliazza scrive che bisognerebbe salvare faccia e onore e, se capita, puntare ancora all'Europa League. Intanto a Forcella c'è Jolie, era al posto del murales di Kvara e Osimen. I due azzurri lasciano il posto al rapper. Quindi a Forcella, nel cuore di Napoli, Jolie si è preso la scena. Di fatto ha scalzato Kvara e Osimen con il suo murales. Va bene. Questo per quanto riguarda il Roma. Prendiamo adesso la Repubblica Nazionale. Elezioni regionali. Schlein, dopo la Sardegna, non finisce qui. Intervista alla leader del PD. Insieme si può battere la Meloni. Salvini teme il flop alle europee. Castelli, la sua parabola è finita. Laboratorio giallorosso. Si tenta di chiudere accordi sulle altre regioni al voto. Calenda apre. Impossibile non parlare ai 5 Stelle. Ora è sfida in Abruzzo. Opposizioni unite nell'assalto al fortino di Fratelli d'Italia. E poi a Strasburgo, Draghi, non si può dire sempre no. L'Unione Europea si muova sulle riforme. Oleg Orlov, attivista russo, in carcere, accusato di offendere le forze armate russe. E poi troviamo sul conflitto in Ucraina tecnici e ufficiali. Ecco i militari NATO che servono a Kiev. Diamo all'interno di Repubblica. L'effetto todde sul centro-sinistra, spinta al campo dell'alternativa. Dopo la vittoria in Sardegna, PD e 5 Stelle lavorano per sbloccare gli accordi delle altre regioni al voto. Prodi dice uniti si vince. I terzi poli vanno in malora. Anche Calenda apre. All'intesa è impossibile non parlare con il Movimento 5 Stelle. Intanto tra oggi e domani ripartiranno le trattative a livello locale. Qui ci sono i dati definitivi del voto in Sardegna. Con la todde che si è imposta. Anzi no, sono ancora dati parziali. Con il 45,4%. Truzzu, il candidato di centro-destra, al 45%. Poi Soru, della coalizione Sarda, all'8,6%. E poi la candidata civica, Lucia Chessa, di Sardegna, resiste con l'1%. La governatrice dopo il trionfo. Una risposta ai manganelli. Ha detto, todde testimonial dell'alleanza. Andrà a fare campagna elettorale in Abruzzo. E poi Helish Line. Meloni si può battere, ma bisogna restare uniti. A destra resa dei conti. Ora vogliamo l'Abruzzo. Stavolta nemmeno io avevo certezze. Era dal 2015 che non strappavamo una regione alla destra. E questa non sarà la nostra ultima riconquista. La Premier ha preso una sberla. Dice la Schlein. Ha forzato e trascinato pure Salvini nella disfatta. Ora voleranno stracci nel centro-destra. Ancora scorrendo. Anche il Movimento 5 Stelle esulta con Conte. Che detta le condizioni ai dem. Su Piemonte e Basilicata non ci siamo. Se nel PD ci danno per scontati meglio andare ognuno per conto suo. Dice un big dei 5 Stelle. Il leader a Torino e Potenza. Commistioni tra affari e politica che non ci piacciono. L'intervista con Roberto Fico. Prima il programma, dice l'ex Presidente della Camera. Poi la sintesi sui candidati per il fronte progressista. L'alternativa con il PD si costruisce a partire dal metodo. Ancora scorrendo. L'analisi invece dal punto di vista della Lega. Il fuoco amico leghista contro la Premier. Truzzo tradito da 5 mila elettori di destra. E' accaduto quanto temuto. Cioè che Salviniani e Sardisti hanno barrato il simbolo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ma non quello del candidato governatore. Questo emerge dall'analisi del voto. E poi scorrendo ancora, cambiando argomento. Il Medio Oriente in fiamme. Tregua da lunedì. Ma Israele e Hamas smentiscono gli Stati Uniti. Parlando a ruota libera. Il Presidente fa sfoggio di ottimismo. Biden resta però il nodo della durata del cessato il fuoco. Una soluzione ancora lontana. Scrive Repubblica. E poi due anni in ostaggio dei giadisti nel Mali. Libera tutta la famiglia. Padre, madre e figlio rientrati in Italia. Forse pagato un riscatto. Trattati bene. Avevamo perfino una radiolina per seguire l'Inter. Dicono Rocco Langone. La moglie Maria Donata e il figlio Giovanni erano stati sequestrati. Il 19 maggio del 2022. Quasi due anni nelle mani degli giadisti. E poi la cronaca ci porta a Bovolenta, vicino Padova. Uccide la compagna a coltellato. E poi si getta con l'auto nel fiume. Erano conviventi Sara Burattini e Alberto Pittarello. Lui 39 anni. Lei 41. Da 15 giorni era tornata dalla madre. Resta orfana. La figlia 15enne. E per chiudere con Repubblica Nazionale. Verdini paga per le evasioni a Roma. Lascia i domiciliari e torna in carcere. L'ex senatore di Forza Italia portato a Sollicciano. I difensori dicono a 72 anni. E le condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione. Denis Verdini condannato tra l'altro per il crack del credito cooperativo fiorentino. Va bene, ci fermiamo qui con Repubblica Nazionale. Adesso, prima di andare su Repubblica Napoli, un'ultima ora da Castellammare di Stabbia, che leggiamo insieme. E c'è anche un video a corredo. Armi da guerra sulla tettuaia di un box, trovate in un borsone sportivo, attorno ai palazzi del rione Moscarella di Castellammare, quelli popolari dell'8.4. La scoperta è dei carabinieri della sezione operativa stabbiese. Coperto da erbaccia, edera e rami secchi, un borsone di tela blu poggiava sulla lamiera barcollante di un piccolo box abusivo. All'interno, erosi dalle intemperie e dalle piogge, ma perfettamente funzionanti, otto armi da fuoco pesanti. Un fucile d'assalto, un Kalashnikov, un fucile a pompa di quelli capaci di sfondare una porta. E poi due fucili d'assalto di produzione austriaca. Ancora un fucile a pompa americano con matricola a brasa. Due doppiette a canne mozze, un fucile da caccia. Le armi sono state sequestrate a carico di ignoti e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in azioni criminose. Questa è l'ultima ora di cronaca che arriva da Castellammare di Stabbia. Andiamo adesso su Repubblica Napoli. L'effetto todde sulla campagna, modello Sardegna alla regione. Il sindaco Manfredi e l'ex presidente della Camera FICO rilanciano il fronte progressista all'alleanza tra PD e 5 Stelle che escluderebbe però la ricandidatura di De Luca. Ma lui sottolinea invece il radicamento territoriale della presidente Sarda. Poi in piazza Municipio installata la campana per la venere degli stracci di Pistoletto. L'opera tornerà in piazza il 6 marzo utilizzati materiali ignifughi. E poi il procuratore Gratteri sulla giustizia troppe riforme inutili. Ancora oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Corte dei Conti, riflettori sui manifesti antigoverno. Andiamo all'interno di Repubblica Napoli. Proprio su questo manifesti regione, faro della Corte dei Conti. De Luca rischia il processo per le smart card. Il procuratore Giuseppone sulle affissioni contro la Meloni. Esaminiamo gli esposti con serenità. Oggi si inaugura l'anno giudiziario. Intanto l'inchiesta sugli attestati vaccinali Covid. Il filone prof che svolgono incarichi fuori dall'università per il quale Manfredi patteggiò. Preoccupazione per il PNRR che rischia di essere gestito senza controlli. E poi a Caivano, gli sgomberi, il prefetto al Parco Verde. Gli abusivi avranno una risposta. Michele Di Bari, se il Comune avesse esaminato le carte in tempo, non saremmo a questo. Don Patriciello. C'è chi soffia sul fuoco. E ancora da Repubblica Napoli. In via Solimena. La testimonianza shock di una donna dopo lavoraggine. Io e mia figlia, miracolate. Potevamo morire nel fango, ma la casa è devastata. E non abbiamo più nulla. Non ho profili social e nessuno si è accorto del nostro dramma. Chiediamo aiuto. Il Comune ci dia un alloggio provvisorio. Intanto la Municipalità Vomero chiede più vigili e la ZATL. Per chiudere con Repubblica Napoli andiamo in Galleria Umberto. Verso il via ai lavori. Presto ritornerà la vigilanza notturna. Summit in prefettura della cabina di regia per il restauro del monumento. Si parte dalla ripavimentazione, controlli per evitare nuovi danni. Il servizio per la sicurezza sarà finanziato al 50% da Banca Intesa San Paolo. Questo per quanto riguarda la Galleria Umberto. Adesso andiamo su Cronache di Napoli. E troviamo in apertura San Carlo all'Arena, la figlia del boss nella casa dello Stato. Anche due sorelle del capoclan, Bosti nei guai per avere invaso edifici pubblici. Le mani dei Contini sugli alloggi popolari. Blitz interforse all'Orione Amicizia con 17 appartamenti occupati. Le minacce a Don Patriciello e Caos Sgomberi a Caivano. Il prefetto basta proteste. Il Parco Verde cambierà. Don Patriciello dice qui c'è chi soffia sul fuoco. Di Bari il prefetto è intervenuto nella chiesa del prete Antica Morra. Cerchiamo soluzioni ma serve rispetto. A Mugnano tragedia, bimbo di 4 anni, il piccolo Raffaele muore soffocato. Il piccolo ha ingerito un oggetto. Sono stati vani i soccorsi, disposto all'autopsia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. E poi fuori dal carcere il suocero del leader del clan Balzano. Tensione a Miano. Va ai domiciliari. Si parla poi anche di politica. Sul terzo aeroporto interviene il consigliere regionale Piscitelli di Fratelli d'Italia. Lo studio regionale ormai è pronto. Sarà portato sul tavolo del governo. Per il Napoli ultima chance per la rincorsa europea. Calzona si affida al turnover per stendere il sassuolo. Alle 18 il recupero di campionato. Cambi in tutti i reparti dopo il pareggio deludente di Cagliari. Accendi di contestazione dei tifosi a Castelvolturno. E poi a Giuliano svaliggiato il negozio di bomboniere. Banditi scappano con il denaro nelle casse. Assalto da Tammaro in via San Francesco. A Pozzuoli resti di uno scheletro umano trovato sulla spiaggia di Licola. Si tratta di un femore subito sequestrato dai militari. E poi Pomigliano a 17 anni nasconde una pistola carica. Arrestato il minore residente nel rione 219. L'arma aveva la matricola a Brasa. E poi tante notizie in evidenza. Ancora da Qualiano, Nola, Portici, Torre del Greco e Castellammare di Stabbia. Andiamo adesso sul Casertano con cronache di Caserta. Caserta senza vigili. Arrivano i rinforzi. Dalle 10 di domani stop al traffico in Viale Littico. Viale 2, Via Gasparri e San Leucio per l'arrivo di Mattarella. Area stazione blindata per il Capo dello Stato. Organico ridotto all'osso. Chiesti 50 agenti da altre città per la visita del Capo dello Stato. Poi o scalomerce a Grazzarisi. Anche su questo interviene Piscitelli. Lo studio regionale è pronto. Presto lo porteremo a Roma. Spaccio nelle palazzine. Due arresti a Maddaloni. Smantellata una piazza in via Serau. Altri due fermati tra Capodrise e Recale. Uno è di Orta, Viatella. Rissa tra detenuti al carcere. In 10 dovranno affrontare il processo. Tra i feriti anche un poliziotto. Tra gli indagati. Un 30 senne residente a Castelvolturno. Si parla del Napoli ma si parla anche della Casertana. Tre gare in sette giorni. È l'ora della verità per il Rosso Blu. Prima la capolista Juve Stabbia. Poi l'audace Cerignola e la Turris. A San Felice a Cancello. Carfora si dimette dall'Assisi. Al suo posto entra la Dinardo. Tutto da definire il ruolo della minoranza. E poi Castelvolturno. A scuola a Pirieta Mare con i taxi abusivi. Tre i mezzi finiti sotto i chiavi. Il blitz davanti agli istituti di via Scalzone. Segnaliamo tante altre notizie in evidenza. Poi da San Nicola alla strada. Versa, Casal di Principe. Capua, Marcianise. Sessa, Urunca. E Piedimonte, Matese. Andiamo adesso su Salerno con le cronache. E allora troviamo il post Sardegna. Segnale che non va sottovalutato nella nostra provincia con le comunali. Scrive nel suo intervento Giuseppe Fauceglia. Poi il DG Sabatini della Salernitana. Tutto campo. Resto anche in B. Liberani non è in discussione. E Iervolino merita rispetto, dice Sabatini. Poi altro intervento di Michelangelo Russo. De Luca resta popolare. Parla con la cadenza professorale di Pulcinella sul teatrino dei fratelli Ferraioli. Piace la gente comune a cui non garba l'intellettualismo rissoso delle sinistre. Poi ancora Salerno, Via Irno. Il comitato propone soluzioni. E Castel San Lorenzo, il delitto della strega che spezzò il cuore a Carlo Antonio. Andiamo poi a parlare della città della cultura 2024 di Alfonso Malangone. Salerno è più grande di Pesero per abitanti, ma inferiore per tutto il resto. L'intervista al sindaco di Cava dei Tirreni, Servalli. Il mio impegno politico non finirà qui, abbiamo tanti progetti ancora da portare avanti. Altra intervista, quella all'assessore Galdi. Il trasporto pubblico resta al centro dell'attenzione. Restiamo su Salerno con la prima della città. Sfrattati e senza una casa, gli invalidi chiedono aiuto. È il dramma di una coppia di Salerno che rischia di separarsi dalla figlia ammalata. Poi a Capaccio Pessum, lite al centro immigrati, ha coltellato un egiziano. Diamo a Battipaglia, plastica nelle rosette. Il panificio denuncia, ci hanno sabotati. E poi a Sarno, la tragedia, la morte di Michele, il sospetto di una infezione. Iva evasa sulle bibite ad Agropoli. Malandrino finisce nei guai e poi si parla della Salernitana. Sabatini difende Iervolino, merita rispetto, investe e su Liverani chiarisce, rimane. Verso Udile intanto, da domani la squadra va in ritiro e ritrova Boulayet Dià. Chiudiamo i giornali, poi vedremo anche lo sport con il Corriere dello Sport, con la notizia. Eccolo qui, allora, Maxi riciclaggio dei clan, Gratteri contro Nordio con la sua legge, la facevano Franca. E poi Verdini in carcere, Vannacci indagato e il volta faccia di Briatore. Salvini al tramonto con i suoi idoli, scrive la notizia. Armi italiane ad Israele, eppure a guerra già iniziata, l'inchiesta che sbugiarda il governo. E poi il trionfo della Todde, dopo la Sardegna al voto, battuti in manganelli, dice la neo-governatrice. Lasciamo anche la notizia. Come vi dicevo, prendiamo adesso il Corriere dello Sport, la prima, con la fede. Parliamo del Napoli, a Reggio Emilia, alle 18, serve una prova d'orgoglio. Calzona cerca la prima vittoria con il Napoli dello Scudetto. Si parte con Politano nel tridente, rientra Mario Rui, Zielinski favorito su Traoré. E il modulo che ha portato Spalletti al trionfo. E poi Tiago Motta è salito in cattedra nella storica Università di Bologna. Un Bologna alla brasiliana per un'ora a colloquio con gli studenti. Lo spirito brasiliano è la nostra forza, tecnica, agonismo e motivazione è la mia ricetta. Castro si allena e può essere convocato per l'Atalanta. Poi si parla anche dell'Inter, caccia il record, la stella di Lautaro, punta Ciro e Higuaín. Inzaglia alle 20.45, nell'altro recupero, sfida l'Atalanta non solo per il più 12. Ma Lautaro Martinez insegue il primato di 36 gol. Ne mancano ancora 15-36 gol in una stagione. Andiamo a scorrere un po' all'interno. Quelli dello Scudetto a Reggio Emilia per tentare il riavvicinamento alla zona Europa. Calzona pronto a dare fiducia a 10 undicesimi della squadra campione d'Italia. L'unico assente, Kim, attualmente è al Bayern Monaco. Abbiamo visto le formazioni. Di Lorenzo, la polizza del Napoli, dal 2021-22. Con lui in campo ha vinto il 64% delle partite e la media di oltre due punti a gara. Senza il capitano, invece, la squadra frena. Lautaro, Orizzonti, da record. E poi l'Inter è blindata con Sommer di più. Rendimento da capogiro della difesa, ancora di più con il portiere svizzero. Lasciamo il Corriere dello Sport. Prima di salutarci il nostro sito, ottopagine.it. Vediamo cosa c'è su Napoli. Il bambino di 4 anni si sente male e muore, sciocchi in ospedale a Giuliano. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Marano, intervenuti in ospedale. E poi, ancora, arsenale da guerra su una tettoia. Scoperto nascondiglio della criminalità. La notizia che abbiamo letto prima da Castellammare di Stabia. Le intemperie non avrebbero fermato la potenza di fuoco dell'arsenale. Andiamo adesso su Avellino. Morì folgorata nella vasca da bagno a Montefalcione, sequestrati altri caricabatteria. Nel mirino dei carabinieri dispositivi non a norma. Maria Antonietta poteva salvarsi, scrive Paola Iandolo nel nostro articolo. Parliamo della sedicenne di Montefalcione, morta folgorata lo scorso maggio nella vasca da bagno della sua abitazione. E ancora da Avellino si parla anche del calcio a cinque. Sandro Abbate, due a due con la Fel Dieboli al Palasele, padrone di casa avanti. Irpini abili poi nella ripresa a firmare il pari. Andiamo su Benevento, il concorso per i vigili del fuoco. Quiz e domande estratte a caso da un PC per scritti e orali. Rito abbreviato per quattro imputati. In aula sfilano tre testimoni della difesa. E poi ancora fatture per operazioni inesistenti, una condanna e un proscioglimento. Benevento la sentenza per gli amministratori di due società. Andiamo a vedere cosa c'è su Caserta. Caserta aspetta Mattarella, intanto Van Vitelli diventa cittadino benemerito. L'iniziativa del Comune per rendere omaggio al grande architetto che progettò la reggia, appunto Van Vitelli. E poi ancora su Caserta scoperti i furbetti del carburante, sequestrati 12 mila litri di gasolio. Vediamo anche Salerno, Nocera Inferiore, quattordicenne morto in ospedale. Inchiesta interna dell'Umberto I. Nelle prossime ore la procura di Nocera Inferiore conferirà l'incarico per l'autopsia per la morte del quattordicenne. Michele di Sarno ancora da Salerno. Economia sulla ZES Unica interviene Visconti dell'Asi Salerno. La struttura di governo non è ancora pronta. La guida nazionale di Ficei mette in guardia sul rischio che possano esserci ritardi. E poi la sezione Campania, Confagricoltura Campania. Paolo Conte, nuovo direttore regionale. E poi allerta meteo gialla della protezione civile in Campania per le prossime ore. Le precipitazioni potrebbero essere intense e repentine. La sezione Italia. Trovate tante altre notizie. Così come sulla sezione Mondo, dove viene ripresa la protesta agricola Bruxelles. Trattori contro le politiche europee. E poi in prima pagina ritroviamo la tragedia di Mugnano con il bimbo di 4 anni che si sente male e muore. Sciocchi in ospedale a Giuliano. L'arsenale da guerra su una tettoria scoperto a Castellammare di Stabbia. E poi dall'Irpinia a Monte Falcione, la sedicenne morta folgorata nella vasca da bagno, sono stati sequestrati altri caricabatterie. Va bene, è tutto per questa mattina. Io ringrazio come al solito in regia Aldo Fenizia. Vi ricordo alle 11.30 Campania Live con Immaterisco, poi 14 e 14 e 30. Il TG News regionale e il TG Sport da Angelo Giuliani. Una buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.